Buongiorno, di dove siete? Siamo di Sicilia, Francofonte, provincia di Siracusa. D'accordo, e prima volta a Ginevra? No, a Ginevra sono stabilito qui da 40 anni. E qu'è che voi pensate della Fede dell'Escalato? Guardi, è una bellissima festa dell'Escalato, perché l'Escalato è una festa tradizionale, per rimuovere tante belle cose per noi, è molto tradizionale tutta questa brava gente, che passeggia, e in più oggi abbiamo la fortuna di avere un tempo senza pioggia. Perfetto, grazie mille. Grazie a lei.